Ciao amici di Radiospeaker.it, sono Daniele Greco, ho 23 anni e da due mesi conduco qui sulla prima radio della capitale, Radio Roma, 104 FM in Roma e provincia e siamo anche sul canale 115 del Digitale Terrestre. Consiglio vivamente a tutti i ragazzi giovani come me che vogliono intraprendere una carriera in radio di frequentare tutti i corsi di Radiospeaker.it sono veramente validi e ve lo consiglio vivamente. Potete ascoltarmi il sabato e la domenica dalle 17 alle 20 su Radio Roma nella lotta a Greco Bramini. Ciao!